Bisogna ripartire e cercare appunto di limitare gli errori che facciamo, poi facciamo gli errori un po' troppo banali e sicuramente bisogna cercare di limitarli, però insomma è un ottimo inizio, sono sicuramente contento. Il ruolo di Capitano ti ha conferito molta più autorevolezza adesso, non che prima non ce l'avessi, però nella parte centrale dello scorso anno ti eri un po' smarrito. Adesso si vede che hai un altro piglio in campo, si vede proprio nettamente. Sì, ovvio, quest'anno sono stato responsabilizzato, quindi ovvio che io cerco di dare, tra virgolette, l'esempio, nel senso che per vincere queste partite serve sempre grande difesa, grande aggressività, energia. Queste sono partite, questa è una squadra forte, una squadra che potrà per entrare nei playoff, quindi questa è una partita importante, un attore importante per una vittoria di alto livello. Per me queste partite serve solidità, serve aggressività in difesa, io cerco di, quando entro, cerco di dare questo, cerco di dare più equilibrio in attacco. Il tiro oggi non mi è entrato, ma vuol dire, non è un problema entrare nella prossima partita. L'importante è la partita che è solida, che abbiamo fatto tutti quanti, è stato un contributo da tutti, ovvio che Gibson è stato quello che ha segnato di più, però penso che tutti quanti hanno dato il proprio contributo difensivamente e offensivamente.